12 a 0, 12 a 0 per iniziare, not bad, partita finita dopo 4 minuti di gioco Signori buongiorno, sono il Franz 7 su Mbire Vavazon, volevo fare almeno una partita dei Celtics in questa postseason di reaction scelgo gara 1 contro gli Indiana Pacers anche perché non si sa con i Celtics quanto possano durare in effettivo le serie per cui senza attendere andiamo a vederci i Boston Celtics così cogliamo l'occasione anche per un commento sugli Indiana Pacers partiamo Signori benvenuti al TD Garden di Boston, ringraziamo come sempre Fred Dawkins per l'enorme lavoro che fa l'enorme lavoro che fa per la community che segue la NBA oh ragazzi, Boston arriva in carrozza indiana più o meno pure se ci pensiamo perché insomma in gara 6 e 7 contro New York ha veramente faticato pochissimo contro i... attenzione, subito certo, il primo canestro è una schiacciata di Jalen Brown va si accama al ferro oh, stoppatona al centro del progetto all'Orford che mangia in testa tutti i Pacers tripla di Drew Holiday inutile dire, Boston Celtics strafavoriti ma occhio agli Indiana Pacers squadra totalmente imprevedibile e che fisicamente contro questi Celtics ci sta e ci sta alla grande Porzingis dovrebbe rientrare per gara 4 mentre 12 a 0 12 a 0 per iniziare not bad partita finita dopo 4 minuti di gioco anche perché se la transizione difensiva degli Indiana Pacers è questa roba qua, signori possiamo anche scrivere 4 a 0 ancora, Jason Tatum va al ferro 16 a 7 per cominciare questa partita con la difesa in drop di Al Orford contro Tyrese Alliburton e non te lo puoi permettere c'è poi Derrick White che ha subito una leggera flessione dopo le stratosferiche cifre delle prime partite di questi playoff fisiologico del resto insomma, non è mai stato un giocatore da 26 di media temo non lo sarà mai anche e soprattutto in questo contesto in cui sono altri quelli che devono mettere punti a referto a lui si chiede ovviamente creation si chiede tiro da 3 si chiede soprattutto difesa perimetrale ancora, Ricciolo di Jalen Brown passo e tiro lascia lì Maesterner sono rientrati però gli Indiana Pacers come detto i Pacers sento tanti dire Pacers run sculata run caratterizzata dagli infortuni degli avversari certo insomma manca Jannis poi manca Lillard poi mancano Randall poi si fa male Hart si fa male a Nunobi poi alla fine si è fatto male anche Branson run fino a questo momento fortunata per gli Indiana Pacers ma vi dico questa secondo me per come li ho visti giocare per l'intensità che stanno mettendo attacco e difesa guardate qua che bella che bel gioco offensivo per l'intensità che stanno mettendo dicevo secondo me avrebbero avuto possibilità di battere sia Milwaukee che New York forse meno New York di Milwaukee ma comunque entrambe anche al completo al netto di Randall che era out for season già da prima andiamo però avanti perché qui Miles Turner con la più classica delle schiacciate di Miles Turner fa sempre queste e poi guadagna spazio sotto canestro facendo valere la stazza Drew Holiday contro Tyrese Leburton e ragazzi i Boston Celtics saranno questi per i prossimi anni perché con l'estensione appena firmato i forzinghi con uff quella bella giocata di Jason Tatum e con l'estensione Drew Holiday dei recente insomma questi Celtics si candidano come possibile finalista ad est per le prossime 3-4 stagioni insomma vediamo se riusciranno a prendere le redini della Eastern Conference come fece il buon LeBron James ai tempi ecco qua quale potrebbe essere un problema dei Celtics il primo cambio tra i lunghi in assenza Porzinghi è Luke Cornett non esattamente il migliore che tutti possa aspettare in quanto contender ancora recupero di Drew Holiday che però per tenere la palla in campo la cede a Siakam gran palla di Siakam per Aaron Nesmith e Siakam sta venendo fuori alla grande in questa postseason giustifica ovviamente la presa ricordiamo che è scadenza quindi l'Indiana Pacers dovranno comunque rinnovarlo in estate e con quello che sta dando Siakam in questi playoff non ho dubbi che l'Indiana lo farà bisogna vedere per quali cifre ancora tiro in step back da 3 di Derek White altro set offensivo con la rimessa e poi dal logo Tyrese Aliburton per il pareggio chiude il primo tempo 64 pari punteggi alti del resto sono i due migliori attacchi della Lega questi due quindi aspettiamoci partite ad alto pace e soprattutto ad alti punteggi perché va bene va bene meccanica di tiro orrenda ma entra sempre in questo ultimo periodo entra sempre ancora tripla di Alorford il nonno al centro del progetto tiene altro passo e tiro ce l'ha questo movimento Jalen Brown è già il secondo passo e tiro quasi in cespica su se stesso Miles Turner aggressivo Jason Tatum quello che è mancato nelle prime due serie non che ce ne fosse particolare bisogno però JT aggressivo c'è bisogno di aggressività di Tatum da qui fino alla fine anche perché a differenza degli anni scorsi dove Tatum era arrivato sempre comunque un po' malconcio un po' stanco all'appuntamento col destino qua sto patona di Jalen Brown e poi recupero di Jalen Brown recupero di Jalen Brown ancora Tatum sfrutta il blocco di Cornett invece di passarla a Drew Holiday va al ferro and one 92 a 79 i Celtics provano a prendere il largo alla fine del terzo periodo andando sul più 13 che diventa più 11 eccolo qua TJ McConnell la mosca sfrutta un corridoio difensivo grazie al blocco di non ho visto chi credo obitopin ancora vanno small i Pacers per provare a rientrare con Siakam da 5 topping da 4 Nesmith da 3 qua prende in transizione lo scarico di McConnell e spara la tripla mentre va bene ragazzi va bene e ragazzi sembra molto la squadra del destino rientra dal meno 13 indiana va sopra di uno abbiamo una partita signori abbiamo una partita qua si scambiano canestri Siakam Jason Tatum c'è bisogno di Tatum attenzione al resto sul piede oh sbaglia strano fanno vedere un highlight di un tiro sbagliato di solito quando parte la palla vado già a festeggiare invece no e invece no spalla canestro Giruoliday ci porta il piccolo e giovane Shepard col baffo alla Narcos poi va Siakam tra Shepard e Siakam non so chi dei due sia più Narcos con sti baffi incomprensibili ancora Giruoliday arriva il ferro che giocatore il vecchio Giru che giocatore qua McConnell turlupina completamente Prichard e poi la tripla del pareggio di Mysterner attenzione si velocizzano gli highlight 5 alla fine pareggio 104 pari l'Indiana Pacers provano a farlo scalpo al TD Garden qua ruba palla Siakam troppo passivo Jaylen Brown attacco e difesa e qua Jaylen Brown andrebbe punito con la sedia elettrica no scherzo non si scherza su queste cose andrebbe punito con una serie di non lo so solletico sotto i piedi ecco per dire triple di Harry White meno uno Boston ancora Siakam attacca Orford poi scarica per Nesmith partenza di Nesmith che ricordiamo essere un ex che non giocava mai a Boston quanto avrebbe fatto comodo in questo momento Aaron Nesmith a Boston rientrato nella trade Brogdon ricordiamo Brogdon che non è più a Boston ancora Indiana vola sul più tre attenzione perché Indiana è avanti di tre due minuti alla fine con lo step back di Nenbard va sul più cinque Boston rischia Boston rischia Derrick White per Giruoli il backcourt va alla carica qua continua con questo doppio step back Tyrese Alliburton falli in attacco sanguinoso di Mike Sterner meno uno Boston ancora si va da Nenbard ormai per i canestri pesanti Alliburton e Siakam no si va da Nenbard ultimo possesso e no ma fai fallo ma fai fallo fai fallo ma che combini ma scusa aspetta 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 non l'ho mai fatto nelle reaction ma qua va fatto perché qua devo rivederla voglio rivederla Fabio ah intanto si va da Nenbard in isolamento contro a Lorford per il canestro del più tre e Nenbard ormai sta veramente venendo fuori come un clutch player importante per questa squadra importante e poi vediamo l'ultima rimessa perché qua c'è un doppio blocco Tatum per Orford che poi riblocca per Tatum e poi White per Brown vediamo White blocca Siakam qua devi chiamare il cambio assolutamente ragazzi qua secondo me errore di McConnell errore di McConnell dall'altra parte si annodano un po' tutti non so che schema sia questo qua sotto un giro giro tondo casca al mondo secondo me qua erroraccio erroraccio di TJ McConnell erroraccio di TJ McConnell sei sopra di tre ragazzi sei sopra di tre concedi il canestro da due punti qua devi cambiare qua devi cambiare erroraccio di TJ McConnell che diciamo è stato forse il migliore nella serie contro New York per come spaccava le partite ma qua manca comunicazione difensiva qua manca totalmente comunicazione difensiva errore secondo me TJ McConnell poi è vero che qua si accama paura di far fallo sul tiro per non dare un gioco da quattro punti qua si però fai un fallo duro fai un fallo duro 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 e boh non lo so non lo so secondo me nell'ultima azione è errore di McConnell però andiamo avanti perché in realtà ci sono i supplementari ci sono i supplementari perché la tripla di Aliburton fosse entrata veramente sarebbe stato la benfua ancora Aliburton con questo doppio step back ancora una volta meccanica di tiro orrenda lancia il pallone ma segna sempre ripeto ancora Jalen Brown di forza contro Aliburton i Celtics devono provare a portarla a casa stoppata di nonno al centro del progetto qua non fischia fallo stoppata di Nesmith in recupero fischia il fallo l'arbitro ma più uno Boston 121 a 120 qua Tatum perde un pallone orrendo e arriva d'Eric White col fallo su Aliburton va avanti di due indiana un minuto alla fine ancora si va da Tatum che qua mamma mia chef Tatum consegna più uno Boston e questo potrebbe essere il possesso definitivo uff uff qua la difesa di indiana va a farfalle Boston porta a casa gara 1 a occhio a meno che non succeda qualcosa di incredibile tipo gara 2 New York Philadelphia ma temo temo di no i Boston Celtics mi aspetto siano un po' più scafati fallo su Drew Holiday più 6 Boston Celtics 16 secondi alla fine qua rimessa di Nambard bello schema wow 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 che rimessa dal fondo però che aveva disegnato Carlisle per una tripla veloce vince gara 1 Boston ma che sofferenza che sofferenza e per chi pensava ad una serie indirizzata fin da subito e senza storia tac l'imprevedibilità totale degli indiana pacers trasforma gara 1 in una corrida e ragazzi indiana è più profonda senza ombra di dubbio gara 1 è una gara un po' a sé rispetto a tutte le altre ma Carlisle è un grande allenatore Carlisle è un grandissimo allenatore Boston ha trovato finalmente un tatum aggressivo da 36 12 e 12 su 26 dal campo 15 orfor 28 di giuoli dei partitone 15 derry quiet 26 di Jalen Brown con la tripla del pareggio per andare ai supplementari 24 e 12 siacam 14 nesmith 23 10 turner 25 10 assist di aliburton 12 di nambard che però è il designato per i canestri pesanti 15 di hobbitop in 13 di tj mcconnell secondo me secondo il mio modesto parere tj mcconnell è costato la partita agli indiana pacers perché se lì chiami il cambio a siacam vai tu sull'angolo e siacam si tiene derry quiet la partita la porta a casa indiana errore sulla difesa nella rimessa decisiva e non te l'aspetti da tj mcconnell che è tutto sommato il più esperto insieme a miles turner di questo roster non te l'aspetti e invece tac errore 48 minuti in campo per giu holiday che nonostante l'età continua ad avere un impatto tremendo anche in attacco oltre che ovviamente in difesa chiudiamo con i soliti commenti gara 1 è andata boston sopravvive agli indiana pacers in gara 1 in casa ora c'è gara 2 e boston in gara 2 le ha perse tutte nelle serie precedenti fino a questo momento e contro squadre peggiori e che stavano tendenzialmente peggio rispetto agli indiana pacers che altro aggiungere secondo me è una serie più equilibrata di quanto non possa dire l'effettivo record di regular season porzingis lo rivedremo probabilmente da gara 4 in poi e che altro aggiungere indiana sorprendente sorprendente gioca senza pensieri una squadra insomma fisica atletica con tanto tiro dall'arco e anche questa volta tira con ben oltre il 53% dall'arco tra l'altro 99 tiri tentati da entrambe le squadre pace altissimo e sarà una serie di questo tipo secondo me boston ha maggiori possibilità se riesce a rallentare un po' il ritmo è vero che sono giovani a parte nonno al che però è giovane dentro è giovane nel nostro cuore però indiana ne ha di più se giochi sul ritmo e vedremo vedremo è comunque una serie interessante da una parte c'è mazzulla che come allenatore è tutto da da confermarsi dall'altra c'è carlile che invece è un vecchio volpone che ha già vinto l'anello e le sue squadre sono tendenzialmente ostiche e erognose ragazzi abbiamo finito questa reaction del mercoledì mattina volo in ufficio e ci vediamo durante il giorno via social con altri mezzi buona giornata il franzo e ci vediamo